Io dico veramente solo due parole, voglio solo ringraziarti per averci ospitato in questo prestigioso festival e per averci dato un'occasione di più per danzare perché alla fine quello che conta è dare ai ragazzi la possibilità di danzare più possibile. Certo, è la seconda cosa, ma io devi indicare anche quest'anno. Grazie, grazie. Quindi solo questo, grazie davvero, sei stata gentilissima, disponibile e una persona attività. Grazie davvero, grazie. Allora, i percussionisti, ce l'ha fatto, sì, ma gli artisti, noi abbiamo tanta resistenza, sì, 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 siamo tutti i sensi. Allora, dividiamo questa parte dell'altra, forse, con loro, ma poi questa resistenza ci siamo sentiti tutti quanti, cittadini del mondo, il mondo è uno. E poi una patina piccola dell'universo, dell'universo e degli diversi, e quindi farci la guerra con un pezzettino di terra, perché la pelle mia scultura, con la volta in punta, con la volta in giro, con il fisso, ognuno fa quello che è buono, rispettando la libertà dell'età. E questo, veramente, questo non è uno spettacolo, è anche proprio una lezione di vita che ci avete dato voi dell'Ateneo Augusto D'Anazari. Grazie mille, noi ci vediamo il 26 agosto qui a Musicarte, poi anche il concerto di lirica, e poi anche il mio concerto, è il del 30 di agosto, sempre qui all'Ao. Grazie e diamo la vostra bravura bell'antica, a volte, in questo bellissimo spettacolo. Grazie. 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 Grazie.